La nostra regione è interessata da correnti disposte in cuota da sud ovest mentre al suolo da sud est e da est. Aria umita dunque affluisce in cuota determinando diffusa nuvolosità associata a deboli precipitazioni. Nel corso di questo fine settimana aria relativamente fredda con traiettoria occidentale rispetto alla nostra penisola raggiungerà il Nord Africa dove già in queste ore è in formazione una depressione. Depressione che si muoverà verso nord posizionandosi in prossimità della Sardegna rimanendo quasi stazionaria per almeno 48 ore. La nostra regione verrà coinvolta soprattutto nella giornata di sabato con precipitazioni diffuse e localmente anche di una certa intensità. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 6 novembre condizioni di cielo molto nuvoloso con associate precipitazioni di moderate intensità distribuite in maniera omogenea su tutto il territorio. Fenomeni più intensi potrebbero verificarsi nelle aree montuose esposte ad ovest. Temperature in aumento nei valori minimi, venti moderati a tratti forti da est e mare molto mosso o aggirato a largo e poco mosso sotto costa. Domenica 7 cielo irregolarmente nuvoloso con una maggiore copertura sul settore centro-settentrionale della regione dove potrebbero verificarsi piogge sparse. Meno probabili i fenomeni sui rimanenti settori. Temperature in ulteriore aumento, venti deboli da sud e mare poco mosso. Nei primi giorni della prossima settimana il vortice depressionario influenzerà più direttamente la nostra regione determinando ancora a tempo instabile con altre occasioni per precipitazioni ma in un contesto termico sempre mite per il periodo in corso. Per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook Meteo Cilento. Bene, termino qui. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.